Un altro contributo da un uomo estremamente concreto che ci presenterà un tema piuttosto interessante, buongiorno e benvenuto Gianni Franchini che è la business unity manager della divisione Ausi. Diciamo adesso, come diceva l'ingegnere Monetini, abbiamo varie specializzazioni all'interno del gruppo e io mi occupo della parte che è più legata alla lavorazione del legno mascello e in pratica è una delle prime esperienze fatte dalla SCM, dalla sua nascita e che si è sviluppata prima dalle macchine tradizionali e poi dalle macchine semi-automatiche, automatiche eccetera eccetera. Mascello era un settore molto ampio una volta negli anni 50 che ha ridotto la sua importanza dal punto di vista generale però si è molto qualificato tecnologicamente, ci sono state moltissime innovazioni anche in questo momento, in questa grande difficoltà ci sono grandi cambiamenti in corso che stiamo vivendo e stiamo portando avanti. Quindi come diceva l'ingegnere Monetini, uno sviluppo tecnologico di prodotto e con una visione di processo sempre più forte che portiamo avanti. Ecco quindi housing, la mia missione, la nostra missione è questa, quella dello sviluppo delle tecnologie per la lavorazione del legno mascello. Quali sono le caratteristiche principali di questo gruppo di lavoro? Quali sono le peculiarità? Lavoriamo in questo settore da circa 40 anni, cioè dagli anni 70 quando abbiamo sviluppato le prime scorniciatrici, squadratrici, ecco abbiamo cominciato ad andare nell'industria della lavorazione del legno mascello. Abbiamo, grazie a questo, lavorando a contatto con i nostri clienti in tutto il mondo, abbiamo avuto contatti ed esperienze professionali un po' con tutti, dall'Australia, al Brasil, al Sudafrica, agli Stati Uniti, l'Italia, alla Germania, a partire dalla Germania che è stato il primo mercato di export della SCM Group negli anni 60-70. Abbiamo quindi una squadra di persone dedicate a questo, sempre più focalizzate non solo all'analisi e allo studio della proposta della macchina, ma un po' di tutto il concetto della produzione a casa del cliente, dal semilavorato fino alla parte finale, verniciatura, imballaggio, eccetera. Abbiamo tre siti produttivi, tre siti produttivi che sono una Rimini, lo stabilimento storico dove SCM è diventata grande e in questo stabilimento siamo principalmente focalizzati su soluzioni di centri di lavoro, controllo numerico e macchine per lavorazione ed infissi. Siamo più su prodotti, diciamo, più standardizzati, perché abbiamo poi per le soluzioni specifiche due stabilimenti, una sinalunga con il marchio Rautek che da molti anni si occupa di tecnologia, delle macchine 5 assi a tecnologia di alto livello e recentemente con Rautek stiamo sviluppando il settore delle case in legno, che è un settore in grande crescita. Vigolzone è la sede storica della Ditta Celaschi, che è una delle ultime aziende entrate a far parte del gruppo, col quale siamo dedicati sempre più e concentrati alla lavorazione del parquet e un po' di tutti gli impianti di squadratura per qualunque materiale, non solo il legno ma anche cemento, derivati dalla plastica, eccetera, eccetera. Quindi, per riassumere, le aree di competenza di cui ci occupiamo nella divisione housing sono porte e finestre in tutte le varianti immaginabili possibili, dagli scuri alle porte massello, tamburate, tutto, di cui ci occupiamo in queste giornate oggi, insieme a voi, e poi ci occupiamo di sedie e tavoli, pavimenti, come abbiamo già detto, e questo settore in sviluppo, che è quello dell'edilizio in legno, dalle travi alle pareti a tutto quanto riguarda questi concetti di costruzione ecologica, ecosostenibile, biodegradabile, risparmio energetico, eccetera, eccetera. L'ultima cosa è un settore di nicchia in cui però abbiamo avuto molto successo, adesso un po', diciamo, legato al momento storico non di grande sviluppo, ma è quello delle costruzioni dell'arredamento nautico, perché l'arredamento nautico è un arredamento su misura e abbiamo sviluppato delle tecnologie di lavorazione che si chiamano nesting, dove si fa arredamento in su misura con centri di lavoro evoluti. Diciamo, è un po' fuori dal nostro, diciamo, visione storica, ma qui abbiamo avuto, grazie al contatto con alcune grandi realtà, qui nella zona Ceferretti ci sono altri grandi costruttori, abbiamo sviluppato con loro delle tecnologie di cui adesso siamo fortemente proprietari. Bene, i marchi che fanno parte, che coinvolgono il processo di lavorazione della divisione housing, sono SCM, la divisione storica, Rautec per i centri di lavoro evoluti e le case in legno, celaschi, parchè e impianti di squadratura di qualunque tipo di materiale, Sergiani, anche questa è una nuova entrata nel gruppo SCM, un'azienda storica, conosciutissima nel mondo per le presse, per le porte soprattutto, che sta vivendo una nuova giovinezza, diciamo, e sta allargando un po' anche le sue campi di applicazione, dagli strettoi a controllo numerico, dalle presse per travi lamellari, eccetera, eccetera, e fino alle presse storiche, la Sergiani è famosissima in tutto il mondo per le sue presse ad alta produttività. Nuova è entrato anche il discorso della superficie, superficie che tradizionalmente è un'azienda dedicata alla verniciatura del pannello e del mobile, ha, e vedrete qui in queste giornate, nuove soluzioni per la verniciatura 3D, cioè infissi, porte, eccetera, e quindi DMC per la levigatura. Anche sulla levigatura qui vedremo cose interessanti, nuove, nell'ottica del processo produttivo. Il tutto è poi, come ripeto, in questa visione non di macchina e di consulenza alla trattativa su una macchina, ma in una visione di processo, di analisi di tutte le attività inerenti alla produzione, abbiamo la SCM Engineering, con degli esperti, con nuove funzioni che si chiamano Process Manager, e per tutte le attività di cui vi ho parlato, dal parquet alle case, alle finestre alle porte, abbiamo uno specialista con il nome di Process Manager, fa parte della divisione SCM Engineering, che guarda in maniera trasversale tutte le attività, è un esperto sia del mercato, sia del prodotto, e un po' alla visione trasversale di tutto quello inerente alla vostra produzione. Per finire, due parole su quello che è più interessante qui in queste giornate tecniche, è la quarta edizione. Abbiamo due... Abbiamo la quarta edizione e abbiamo sempre avuto un riscontro di pubblico interessante. Continueremo in questa attività, che riteniamo interessante, per proporvi in questo giornate, in particolare sul serramento, due nuove tecnologie e delle celle di lavorazione, cella integra per la lavorazione di pezzi all'unità, qualunque forma, qualunque sessione, con poca manodopera e molta flessibilità, e poi un impianto per la lavorazione di porte a passaggio, la cella feed, che permette lo stesso grado di flessibilità nella lavorazione delle porte. L'ultima cosa che vi volevo dire è questa. Innovazione, che cos'è l'innovazione per noi? È un punto importante che ci tengo per concludere, perché noi solo essendo a contatto con i migliori clienti, più innovatori, riusciamo ad avere l'idea di cosa rappresenta, cosa è il futuro. Dunque, l'innovazione non la facciamo chiusa in una camera con tre ingegneri che pensano, la facciamo stando in contatto con voi tutti i giorni, che ci raccontate le vostre esigenze di oggi e di domani e ci aiutate a noi a sviluppare i prodotti che serviranno a voi per il futuro. Grazie.